Inizio la lezione prendendo in considerazione le principali primitive grafiche che si possono utilizzare con la grafica SVG. Quella di cui state vedendo l'anteprima è una pagina web in cui ho inserito due sezioni SVG. La struttura la possiamo vedere qui, è abbastanza semplice. Ecco la prima, dove ho sperimentato con un rettangolo, un segmento diretta e un cerchio. Nulla di sorprendente, soprattutto dopo la panoramica sulle canvas, che ripresentano molte delle caratteristiche che adesso sono qui riproposte con la SVG, in chiave più programmabile come abbiamo già avuto modo di sottolineare la volta scorsa. Nel primo blocco ho inserito un elemento rect, rettangolo, x e y sono le coordinate dell'angolo in alto a sinistra, dove piazzare all'interno dell'area visibile l'elemento. Ma il rettangolo diventa potenzialmente anche un quadrato, specificando lo stesso valore per la larghezza e l'altezza, width e height. Fill è ovviamente il riempimento. E possiamo utilizzare la stessa identica sintassi che avete imparato per i CSS3. Quindi possiamo esprimere o secondo la classica notazione col cancelletto dei valori esedicimali, un colore tipo ff, 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 cose del genere. Oppure come in questo caso, secondo la terna, dei valori RGB. Da notare come un po' tutte le caratteristiche che sto spiegando una volta applicate al rettangolo, una volta applicate al cerchio o all'ellisse, in realtà sono interscambiabili. Cioè il fill ovviamente lo si può specificare allo stesso modo anche per uno dei qualsiasi altri elementi. E la stessa cosa, qua si può intravedere il controllo sull'opacità, beh avrei potuto applicarlo anche al mio rettangolo o a qualsiasi altro elemento. Potete anche vedere che è indifferente, come spesso accade con il codice HTML, indicare i valori delle property tra apici o tra virgolette. Il mix tra le due possibilità è molto utile quando con uno script JavaScript siamo nella necessità di dover costruire una stringa contenente la specifica di un elemento. Quindi potrei usare le virgolette e poi se questo 30 dovesse essere invece generato o calcolato, potrei concatenare questa stringa con il più e all'interno, dove è necessario, rappresentare le virgolette con il singolo apice. Me l'avete visto fare tante volte nelle lezioni sul JavaScript, su jQuery e simili. Come potete immaginare, i quattro valori che sono qua indicati per la linea sono le coordinate del suo punto di partenza, quindi questo, e del suo punto di arrivo, questo. Stroke, ben detto, è il colore del pennino, questo è lo spessore, stroke qui, e questo è come sono terminati gli estremi della linea, potrebbero essere squadrati o arrotondati o anche altre possibilità. Per il cerchio, dobbiamo ovviamente definire le coordinate del centro e la misura del raggio, ma l'avevamo anche già visto. Qui sto anche applicando un fattore di opacità pari a 0,4, dove nella scala 1 rappresenta il colore pieno, quindi nessuna trasparenza, trasparenza che è anche lo stato di default. Ecco qui, il colore è un grigio, nessuna trasparenza. Mentre, avvicinandoci allo 0, anzi proviamo prima con 0, avremo la totale trasparenza e così via. 0,1, un 10% diciamo di trasparenza, quasi non si nota, proviamo con 0,2, comincia a intravedersi. E forse, come suggerisce il nome, era meglio parlare di grado di opacità. 0, nessuna opacità, cioè trasparente, 1, massima opacità, cioè nessuna trasparenza. Passando al secondo blocco, si inizia con un'ellisse. Per l'ellisse vengono specificate come caratteristiche, come attributi, che cosa? Le coordinate del centro dell'ellisse e due valori per i raggi, perché sono corrispondenti, praticamente, qua si intravede l'ellisse qua sotto. Quindi il primo raggio, che è questo, e il secondo raggio, per così dire, che è questo. Ovviamente c'è un'eccentricità perché abbiamo uno sviluppo maggiore in orizzontale rispetto al verticale, da cui anche la generazione di un'ellisse invece di un cerchio. Un poligono è invece identificato da una sequenza di punti collegati da linee. Colore di riempimento, un silver, quindi un argento, un grigio un po' più scuro di quello applicato in precedenza. Stroke, stroke width, tutto tranquillo. E la sequenza dei punti da collegare. Attenzione a come sono indicate le coordinate. Le ho ridotte proprio per rendere evidente quello che sta succedendo. 50, 100, ed oltremente ridotto, corrisponde a questo punto. 50, 100, partendo all'alto. Vi ricordo che crescendo il valore delle Y si scende verso il lato inferno dello schermo. Quindi, 50, 80 significa collegare con un punto che sta un po' più in alto, 20 pixel più in alto. Notate, qua non c'è separatore, quindi sono delle coppie di coordinate separate ciascuna nelle sue componenti X e Y da una virgola. Uno spazio e poi altre due coordinate. Quindi, primo punto è questo qua, l'altro è quello che apparirà non appena confermerò il salvataggio. Avete capito ora come funziona? Quindi possiamo anche riattivare il resto delle coordinate. Basta seguire ad occhio l'andamento e questo è il risultato conclusivo. Eccoci. Andando avanti ad approfondire l'argomento SVG, mi sono reso conto che è vasto, molto più vasto di quello che mi era sembrato in un primo momento. E le possibilità sono veramente estese e molto più ricche rispetto al canvas. E ce ne sarebbe davvero da riempire un'intera playlist solo su questo argomento. Quindi, e non è quello che voglio fare, perché diventerebbe una monografia sull'SVG, un po' esagerato. Insomma, anche perché dopo aver appena visto la parte sulla canvas, rivedere un po' tutte le cose, anche se è molto interessante. Quindi, chi di voi ha l'anima del grafico, chi di voi è centrato su questi aspetti dello sviluppo web, conviene che vada avanti anche in autonomia, seguendo. Io adesso vi consiglierò un PDF che si può prelevare gratuitamente, che è veramente fantastico, proprio come progressione. È in inglese, ma si può seguire tranquillamente, perché basta vedere il codice, vedere ciò che produce nel PDF, c'è l'anteprima, la schermata, e copiarselo nel browser, un po' come ho fatto io con questi esempietti, che non ho problemi ad ammettere che li ho presi da lì. E sperimentare. Vedrete che è un libro, un libro che poi prende in esame tutte le possibilità riguardo al testo. Si può far scorrere il testo lungo una curva qualsiasi, si può ruotare, angolare, dare un aspetto 3D, si possono animare gli elementi, si possono manipolare i pixel, come abbiamo già visto anche col canvas, in realtà, anche se non proprio con la stessa logica pixel a pixel, ma lavorando sull'intera immagine. Si possono collegare gli eventi script per manipolare in tempo reale l'aspetto degli elementi grafici. Ecco qui il sito, il nome dice tutto, LearnSvg. Qua avete i link per scaricare il libro, che è un gruppo di PDF, ora ve ne mostro un paio, con tanto di appendice. Qua sotto vi consiglio anche di controllare l'indice dei capitoli, perché altrimenti manca. Ecco, l'unica cosa che manca è proprio una pagina, un PDF che richiami gli altri, almeno mi sembra che non ci sia. La copertura è totale, ed è veramente un lavoro mastodontico, è fatto da gente che veramente se ne intende, ve l'assicuro. Come potete intuire da queste immagini, il documento è fatto veramente bene, passo passo, con tanto di spiegazioni, esempi. E c'è anche una sezione, mi sembra, demo sul sito per sperimentare direttamente online. Guardate anche che altri tipi di effetti si possono ottenere. Direi, notevole. Questa è la parte relativa all'applicazione dei filtri sulle immagini. Ancora qualche esempio di sicuro impatto. Effetti 3D. E acrobazie con il test. Si tratta veramente di centinaia di pagine di ogni band di Dio. E come dicevo è un po' troppo, quindi preferisco veramente mettere in pausa l'argomento sull'SVG, forse un domani potrei anche veramente affrontare con un'intera playlist più in dettaglio la questione. Ora, nell'idea di avere una panoramica su altri aspetti interessanti, preferisco continuare su altri argomenti. Grazie. Grazie.